Un commento alle parole di oggi della brigatista? Credo che siano parole inqualificabili, dico una cosa forte perché tutti hanno diritto di parola e di espressione, ma non credo che vada riconosciuta dignità a queste persone che hanno utilizzato il 16 marzo, che è una tragedia nazionale, è una tragedia in particolare per le persone che hanno sofferto un lutto da cui non si riprenderanno più, per celebrare una loro festa, una loro celebrazione per il Paese, come dice una canzone di giovanotti, il 16 marzo è stata una festa al contrario e chi si è assunto la responsabilità di questa azione dovrebbe sentire la responsabilità del silenzio. C'è un senso in quello che è accaduto? O sono quei quattro squinternati che hanno gestito questa operazione? Una gestione di qualcosa di assolutamente inadeguato anche rispetto ai loro strumenti culturali. Moro gli diceva delle cose che loro non capivano. compreso Gladio, perché Moro gli parla di stay behind, ma loro non lo capiscono, non se ne accorgono. E chi in questi 40 anni non è riuscito a trovare il modo di dire finalmente, almeno tutta la verità, su quel sequestro, su quei 55 giorni, ha un atteggiamento che io non esito a definire mafioso. Sono rivoluzionari che si atteggiano a quelli che vogliono cambiare la situazione e invece si sono comportati in questo paese esattamente come i mafiosi, come i terroristi neri. Cioè persone che hanno disgregato il tessuto sociale di questo paese e che continuano a non dire la verità. La vicenda Moro porta alla ribalta tante ambiguità, tanti doppi giochi che ci sono stati, tanti tentativi di inserirsi. Ma quello che spesso non si vuole vedere è che quello fu un attacco che veniva da una zona che noi conosciamo bene. Noi che eravamo ventenni negli anni 70, cioè chi davvero aveva creduto nella lotta armata. Ma soprattutto tanta era quell'area di persone che non solo nell'università, non solo negli ambienti studenteschi brindarono o furono totalmente estranei alla tragedia, al dramma che si stava compiendo e che invece ci riguardava tutti. Ma secondo lei dietro la Balzerani c'è ancora un popolo o sono solo parole in libertà di una nostalgica di un periodo della storia italiana? No, io non credo che ci sia un popolo, però c'è un'indifferenza alla quale io voglio reagire. Non mi è capitato sempre a Firenze qualche giorno fa di presentare il mio libro e in prima fila c'era Giovanni Senzani. Giovanni Senzani che ha avuto parte nel sequestro di Cirillo, quindi uno dei momenti più torbidi della storia italiana e anche della storia delle Brigate Rosse, quindi mi chiedo quale popolo possa seguire questi personaggi che hanno solo strumentalizzato anche le loro idee politiche per poi giocare delle partite di potere inconfessabili che infatti fino ad oggi non sono state ancora confessate. Alla fine chi ha vinto? Chi ha vinto? Hanno vinto i terroristi o ha vinto lo Stato? I terroristi sono finiti e quindi diciamo nella logica, come posso dire, di iconografia tradizionale sono loro gli sconfitti. Però la democrazia italiana è più forte oggi di quanto fosse allora e questa è una domanda alla quale dare una risposta non è semplice, tanto che il sottotitolo di questo libro, il sottotitolo è Aldo Moro e la fine della politica in Italia. La fine della politica. Sono due parole che messe insieme fanno abbastanza paura. È un titolo forte, mi rendo conto, la politica non finisce mai, è finita quella politica, quello dei partiti rappresentativi della società. Bene, dopo quei partiti non c'è stata più rappresentanza, la società è stata abbandonata a se stessa con le sue speranze, con i suoi fermenti, è cresciuta la società italiana in questi 40 anni, ma è anche una società dove la rabbia, la paura sono spinte disgregatrici, abbandonate a se stessa, in cui la politica non cerca di dare risposte ma si limita al massimo a rispecchiarle, a inseguirle. E' una politica che non guida, una politica che non ha una direzione, è una politica finita, da questo punto di vista la fine della politica.